Gli One Direction, il gruppo musicale che sta letteralmente spopolando, successo strepitoso, data anche la loro età giovanissima, sono amati sia dai ragazzi che dagli adulti, perché hanno messo insieme il grande talento e la simpatia nei confronti dei fans. Gli One Direction hanno ricevuto nel backstage del forum di Asago, prima di salire sul palco per il secondo concerto Sold Out, il Multi Award che sarebbe un premio prestigiosissimo e celebra i traguardi raggiunti dalla band nel nostro paese, perché loro hanno preso il disco di platino per l'album Up All Night, il doppio platino per l'album Take Me Home ed il disco d'oro per il DVD Up All Night Live, quindi una band con tutte le carte in regola per continuare ad altissimi livelli e a livello mondiale.